No sì, sinceramente sono contento della mia prima partita tra i professionisti e ovviamente è un'emozione che rimarrà sempre dentro di me penso di aver fatto una buona partita però c'è sempre da migliorare appunto i vari passaggi sbagliati, i vari uno contro uno persi un giovane come me punta sempre a fare meglio quindi c'è ancora tanto da lavorare Hai parlato di grande emozione, in campo non si è vista questa emozione si è visto un giocatore giocare come un veterano assieme a Marco Berrotta avete disputato davvero un'ottima prova No sì, ringrazio i miei compagni che mi hanno permesso appunto di fare una buona partita senza loro aiuto, senza loro supporto non sarei stato in grado ovviamente il debutto dentro di me lo sentivo molto però una volta sceso in campo pensavo tra me devo andare non posso tirarmi indietro perché è un'occasione che ti capita una volta solo nella vita quindi va vissuta al massimo Ti chiedo questa cosa, Davide, è chiaro che fai difficoltà a rispondermi però tu hai molta sincerità quindi ci provo dopo la prova di oggi pensi di poter mettere in difficoltà il tecnico Pillon quando tornerà a Campagnaro, ora che ha scontato la squadifica Scogna Miglio puntini, puntini No, io appunto lavoro come già ho detto in passato giorno per giorno allenamento per allenamento e ogni volta che il mister mi chiede di essere pronto io risponderò presente questo è il mio pensiero, lavorare giorno dopo giorno e poi il futuro si vedrà Hai aspettato tanto questo momento però qualcuno potrebbe chiedersi perché Bettella ha esordito solo oggi con la maglia del Pescara? No, ovviamente il mister ha avuto le sue scelte, ha avuto le sue decisioni io sono sempre stato d'accordo con lui e mi sono sempre allenato appunto e oggi è arrivato appunto il momento diciamo uno dei miei tanti sogni e quindi ringrazio lui, la società e i miei compagni ancora Ti faccio due domande, ti faccio Davide una dal punto di vista tecnico, una guardando al futuro dal punto di vista tecnico abbiamo scoperto proprio dal vivo le tue caratteristiche ti piace giocare molto di anticipo ma poi ti piace anche giocare molto il pallone un po' come si vede ad altri livelli, il futuro 18 mesi di contratto con il Pescara, lo ha detto Sebastiani il giorno della presentazione se ti dovessero garantire più minutaggio il prossimo anno ti piace questa piazza? No certo, ovviamente già quando mi hanno presentato mi hanno fatto la domanda del Pescara io subito non ho pensato due secondi a dir di sé al Pescara è una società dove i giovani crescono bene, dove puntano appunto i giovani e dove un giovane può crescere molto su tutti i punti di vista ovviamente io ho un contratto di 18 mesi poi appunto si vedrà con il futuro cosa succederà Una grande serata per te, anche la tua Atalanta è andata a vincere a Napoli non è che pensi sotto sotto il prossimo anno di giocare la Champions League o in Arazzurri? Quello è un sogno che penso a ogni calciatore sogni bravi loro, complimenti appunto ai miei compagni dell'Atalanta e adesso però io sono concentrato qua col Pescara che sono in playoff da vincere e da puntare sempre più in alto Cosa ti ha detto Pilon a fine partita? Se ti ha detto qualcosa dopo questa ottima prova? No, mi hanno fatto tutti i complimenti e li ho accettati però dentro di me so ancora che devo migliorare quindi da questo è un punto di partenza Facciamo l'ultima, visto che Pilon avrà parlato, avrà detto qualcosa mentre gli facevate la radoccia era contento della prestazione dell'ultima mezz'ora? Contento del punto guadagnato sulle altre? O arrabbiato per non dire altre cose per le tante palle gol fallite? No, ovviamente c'è il dispiacere perché appunto questa partita abbiamo avuto varie occasioni per poterla vincere o chiudere Diciamo che oggi sembrava che la palla non volesse entrare però un punto guadagnato sull'altro appunto sta sempre a noi partita dopo partita guadagnare quello che vogliamo